Non avrebbe collaudi in regola, dunque non potrebbe rimanere aperta alla fruizione del pubblico. Con queste motivazioni, i magistrati della Procura di Napoli Nord hanno chiesto il sequestro della stazione TAV di Afragola. Il destino del gelo architettonico disognato dall'archistarza Hadid, che fin dalla sua progettazione, animato polemiche, si conoscerà il 3 marzo, data in cui dovrà decidere il Tribunale del Riesame di Santa Maria Capoavetere. Gli avvocati della difesa di RFI hanno depositato materiale documentale, così come anche integrazioni a supporto del sequestro, finalizzata a tutelare la sicurezza pubblica. E l'hanno presentato dal procuratore aggiunto di Napoli Nord, Domenico Eroma, e al sostituto procuratore Giovanni Corona. Non c'è pace dunque per la stazione nel deserto, che già a settembre è foggetto di un blitz dei carabinieri del Noè a caccia di irregolarità ambientali. In sostanza, su delega dei magistrati Eroma e Corona, in servizio alla Procura di Napoli Nord, si vuole accertare se quest'opera architettonica sia stata realizzata, osservando tutte le norme urbanistiche e amministrative, ma soprattutto se le migliaia di tonnellate versate sulla spianata della stazione e già sequestrate nel 2006 si sono state smaltite correttamente. Cosa c'è nei rifiuti tombati? Il mistero della stazione TAV di Afragola non finisce mai. Cosa c'è nei rifiuti? Cosa c'è nei rifiuti? Cosa c'è nei rifiuti?